Iniziano i lavori finanziari dal Masterplan per il rifacimento degli stalli che accoglieranno i nostri autobus e della bietteria di Tua per migliorare i servizi nei confronti dell'utenza. L'occasione è stata da ogni volta anche per deliberare un altro importo che non riviene dal Masterplan ma dal bilancio diretto di Tua per un totale di 320.000 euro finalizzato alla ristrutturazione di tutti gli spazi interni dei nostri uffici in cui esistono il lavoro dei nostri dipendenti per migliorarne la qualità del lavoro. Oltre a questo ci sarà previsto anche il rifacimento di tutto il piazzale di manovra esterno che è uno dei piazzali più grandi che Tua nei depositi regionali con una nuova viabilità all'interno dello stesso piazzale per regolare meglio i flussi di ingresso e di uscita dei nostri autobus. È un intervento che seguirà, che anticiperà altri interventi che stiamo facendo in tutti i nostri depositi nella regione Abruzzo perché un obiettivo di questo Consiglio di Amministrazione è anche quello di trovare risorse di bilancio per migliorare i luoghi di lavoro dei propri dipendenti.